Ciao a tutti e bentornati a Brutte Storie, dove vi parlo di storie brutte e quella di oggi ha a che fare con il caffè del McDonald's. Questo è Brutte Storie. Stati Uniti, è il 1994 quando una notizia assurda riempie le pagine dei quotidiani. Una signora ha fatto causa a McDonald's perché le hanno servito un caffè caldo e ha guadagnato 3 milioni di dollari. Questo perché questa cretina aveva ordinato un caffè al McDrive, poi se l'era messo tra le gambe e mentre stava guidando se l'è rovesciato addosso e come conseguenza si è guadagnata 3 milioni. Tutti ne parlano, tutti i giornali, tutte le trasmissioni televisive, tutti i comici fanno battute su questa signora che diventa un vero e proprio zimbello. Però, grazie a lei, verrà varata una legge per cui sui bicchieri di carta in cui viene servito il caffè bisognerà scrivere attenzione caldo. Ma questa storia è andata proprio così? Partiamo dall'inizio. La protagonista della nostra storia è Stella Liebeck che nasce il 14 dicembre 1912 a New York. Lei è figlia di genitori inglesi ma cresce a New York e vive lì tutta la vita. Si sposerà appunto con Harry Liebeck con cui avrà tre figli. Lei lavora come commessa ma dopo la morte del marito decide di andare in pensione e trasferirsi a Santa Fe per vivere vicino alla figlia. E arriviamo al 1992. A 79 anni Stella è ancora una donna in gamba e indipendente con una passione per il caffè. Una mattina Stella e suo nipote Chris accompagnano Jim, uno dei figli di Stella, all'aeroporto e al ritorno decidono di fermarsi al McDrive. Chris ordina un menù colazione mentre Stella semplicemente un caffè da 49 centesimi. Perché ai tempi il caffè costava 49 centesimi. Tra l'altro in quel periodo Starbucks non si era ancora diffuso come si diffonderà di lì a breve. Per cui il caffè di McDonald veniva considerato uno dei migliori caffè che si potesse bere negli Stati Uniti. Come vi ho detto all'inizio la leggenda narra che Stella stesse guidando quando si è rovesciata il caffè addosso. Invece alla guida c'era Chris che dopo aver preso l'ordine parcheggia. Fermi nel parcheggio Stella mette il bicchiere di caffè, come si dice in italiano la cap, mette il bicchiere di carta di caffè tra le gambe e cerca di aprire il coperchio. Sapete che mettono il coperchio per metterci dentro lo zucchero. Solo che il coperchio era un po' incastrato quindi lei tira un po' troppo forte e si rovescia il caffè addosso. In quel momento caccia un urlo agghiacciante. Chris si preoccupa. Stella si butta giù dalla macchina e si leva i pantaloni. Lei tra l'altro aveva i pantaloni della tuta che quindi avevano assorbito questo caffè bollente. Chris è perplesso, gli sembra che sua nonna stia un po' esagerando, ma quando vede che ha le cosce completamente bruciate la porta in ospedale. Quando arriva in ospedale le vengono diagnosticate bruciature di terzo grado sul 16% del corpo e addirittura i medici temono per la sua vita. Stella viene operata perché dovranno rimuoverle la pelle bruciata. Resterà in ospedale 10 giorni e non sarà in grado di camminare per ben un anno. In più l'assicurazione non coprirà tutte le spese mediche necessarie lasciandola con un debito di 10.000 dollari. Stella e i suoi figli, non sapendo bene cosa fare, decidono di contattare McDonald's. Hanno due richieste. La prima è che McDonald's aiuti con le spese mediche. Loro chiedono 18.000 dollari, che includono appunto i 10.000 dollari di debito che aveva Stella e i soldi che sua figlia ha dovuto perdere prendendosi un'aspettativa dal lavoro per curare la madre. La seconda richiesta è gentilmente di abbassare la temperatura a cui viene servito il caffè. McDonald's, che ai tempi solo di vendite di caffè guadagnava 1.300.000 dollari al giorno, solo di caffè, risponde praticamente ridendo loro in faccia e offrendo 800 dollari. Cioè questa signora non ha potuto camminare per un anno e poi per il resto della vita avrà problemi a stare in piedi e McDonald's gli ha offerto 800 dollari. Anzi, visto che ci siamo, vi mostro le immagini, seppur sfocate, delle bruciature di Stella. Per chi non stesse guardando il video, sappiate che sono bruciature molto estese, che occupano tutto l'interno coscia e che hanno reso la pelle della poveretta completamente nera. È proprio una cosa ghiacciante. Dopo la risposta strafottente di McDonald's, Stella si incazza e lei e sua figlia assumono un avvocato che approccia McDonald's chiedendo di pagare un risarcimento di 90.000 dollari. McDonald's rifiuta e quindi bisogna andare in tribunale. E così nel 1994 inizia il processo, in cui emerge che McDonald's serviva il caffè ad una temperatura di 190 gradi Fahrenheit che in gradi Celsius, cioè i nostri, cioè quelli che usano le persone normali, sarebbero circa 90 gradi. Cioè praticamente ci potevi cuocere la pasta in quel caffè. Sempre a processo, risulta che con una temperatura del genere bastano pochi secondi per causarsi bruciature di terzo grado. Emerge anche che prima di Stella ben 700 persone avevano contattato McDonald's in seguito a bruciature causate dai loro caffè. McDonald's aveva sempre offerto qualche spicciolo per farli stare zitti, alcuni avevano portato avanti la causa, ma in quei casi McDonald's era sempre accordato fuori dal tribunale. Stella è la prima a portarli davanti a un giudice. E ragazzi, 700? Sono veramente tanti. Comunque in tribunale la brillante difesa di McDonald's è stata la maggior parte delle persone che compra il caffè da noi se lo porta al lavoro e quindi lo beve dopo circa 20 minuti. E quindi dobbiamo servirlo così caldo perché rimanga caldo per molto tempo. Che non ha nessun cazzo di senso questa cosa. Però poi dopo loro sostengono che hanno parlato con dei consulenti esperti di caffè che hanno detto che il caffè caldo viene più buono. Questa è stata la loro difesa in tribunale. Poi McDonald's sottolinea che comunque sui loro bicchieri c'era scritto attenzione caldo. Ebbene sì, è solo una leggenda metropolitana che sia colpa di Stella se sui bicchieri ci debba essere scritto attenzione caldo. In realtà quella scritta esisteva anche da prima. E poi McDonald's aggiunge il carico da 90. Dice che una persona normale non si sarebbe causata delle bruciature di terzo grado. La colpa è di Stella che aveva la pelle troppo vecchia perché come si permetteva di essere una vecchia raggrinzita? Alla fine la giuria delibera in favore di Stella. McDonald's dovrà compensarla con 200.000 dollari poi ridotti a 160.000 e in più dovrà pagare dei danni morali per 2.700.000 dollari che però poi il giudice ridurrà a 240.000 dollari che però vabbè sputaci sopra. Quindi se non altro dopo due anni di travaglio Stella ha avuto giustizia o non proprio perché come vi dicevo all'inizio tutti i giornali parleranno di questo caso ma senza riportare molti dettagli. Quindi al pubblico arriverà l'immagine di Stella come una cretina che guida con il caffè tra le gambe e che poi per una piccola bruciatura ha fatto causa a McDonald's diventando milionaria. Tutti la prendono in giro. Lei diventa lo zimbello degli Stati Uniti. In tutte le trasmissioni la sfottano addirittura ci sono delle battute che fanno riferimento a questo caso pure su Futurama. Come conseguenza di questo l'opinione pubblica è dalla parte di McDonald's. Perché vedete sicuramente è stato un caso che i giornali non abbiano riportato tutti i dettagli e che Stella sembri una cretina approfittatrice. Sicuramente McDonald's non ha pagato nessun giornalista ma no cosa vado a pensare. Inizia quindi negli Stati Uniti il panico per le frivolous lawsuits cioè per le cause frivole. Iniziano ad uscire articoli su gente che di lavoro cerca di truffare le povere grandi aziende multinazionali cercando di spillargli soldi in ogni modo. Le grandi aziende dal canto loro sfruttano il momento per cercare di ottenere delle riforme legali che rendano più difficile per i clienti far causa alle aziende. Riusciranno quasi a far passare delle leggi al riguardo che però verranno bloccate da Bill Clinton che a parte i pompini era anche un ottimo presidente. Il suo successore George W. Bush però ci casca e passerà delle riforme che renderanno più difficile per i cittadini fare causa alle grandi aziende. Benissimo. Va detto che comunque negli Stati Uniti è tuttora più facile far causa a un'azienda che in Italia quindi che non si lamentino. Un dettaglio importante da ricordare è che spesso le persone che fanno causa alle grandi aziende non lo fanno per cercare di spillare soldi ma perché se hanno subito un qualche tipo di incidente la loro assicurazione non sempre copre le spese mediche costringendoli a fare causa come è successo a Stella. Stella ci ha lasciato nel 2004 a 91 anni passando alla storia come la donna imbranata che si è rovesciata un caffè addosso e poi ha fatto causa a McDonald's ma questo solo fino al 2011 quando HBO fa uscire il documentario Hot Coffee che riabilita Stella raccontando la sua vera storia. Ad oggi McDonald's negli Stati Uniti serve il caffè ad una temperatura di 180 gradi Fahrenheit corrispondenti ai nostri 82 quindi comunque molto caldo ma un po' meno di prima e la scritta attenzione caldo è diventata più grossa. Contenti loro! E questa era la storia di Stella e del caffè bollente di McDonald's. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e io vi do appuntamento alla prossima brutta storia.